Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della gelosia retroattiva maschile. Prima di affrontare il tema però ti ricordo del mio seminario che farò martedì, seminario online che farò martedì 31 marzo, ore 20.30 fino alle 23, e il tema è seduzione e amore. Per partecipare devi andare sul mio canale Felicità Benessere e andare nella sezione abbonamenti e abbonarti a seminari online. Anche una volta ovviamente, poi magari ne farò un mese, adesso vediamo. Invece su questo canale Massimo Terramasco tu hai tre possibilità di abbonamento. Abbonamento base per un percorso di crescita personale fatto da lezioni mirate, abbonamento top con videoregistrazione dei seminari dal vivo, in più il discorso legato alle video lezioni, e poi anche il seminario, cioè l'abbonamento Master Consulting con in più anche una telefonata di coaching. Allora, veniamo quindi al tema, veniamo quindi al tema la gelosia retroattiva maschile. Allora, che cos'è la gelosia retroattiva intanto? Beh, la gelosia retroattiva è, sono geloso del passato del mio partner attuale, è la forma più perversa, diciamo così, di gelosia che si possa avere. No, sono geloso del passato. Ma non è un qualcosa di così, diciamo, di così, per così dire, inconsueto e strano. Sono molte persone. E c'è differenza però tra la gelosia retroattiva maschile e la gelosia retroattiva femminile, di cui poi farò un altro video. La gelosia retroattiva maschile si basa soprattutto sulla sessualità, perché il maschio ha questo cruccio del suo orgoglio sessuale, diciamo così. Allora, se una donna gli dice queste cose le ho provate solo con te, pensa che la prenda per il culo. Perché con l'ex, nelle fantasie più perverse di ogni maschio, c'è che l'ex fosse una sorta di pornattore, diciamo così, una sorta di black and decker, e che, diciamo, quindi lei avesse provato esperienze più gratificanti rispetto a quelle che ha provato lui, a quelle che gli dà lui, e quindi si sente da questo punto di vista un po', diciamo così, inadeguato. E questa è la più grande forma di gelosia retroattiva, per cui alcuni che si sentono inadeguati, ovviamente, perché lì la base è l'inadeguatezza, iniziano a rosicare e iniziano a vedere, diciamo, la compagna come se fosse un po' una di quelle, una assatanata. Ecco, questa è la forma di gelosia retroattiva maschile, che va a rovinare il rapporto nell'oggi, e va a rovinare anche la sessualità nell'oggi, perché poi ad ogni, diciamo, magari, boh, cose che magari la compagna non gli va di fare o... Lui immagina, eh, ma con l'ex le faceva, con l'ex le faceva, per dire, no? Cioè, questo è un qualcosa, un tarlo, che sta nella mente di molti maschi, che quindi poi... Come si manifesta questa gelosia? Retroattiva. Si manifesta con rabbia e rancori, per cui diventano rancorosi, e diventano... In realtà la rabbia non è dovuta a eventi contingenti, cioè non è che... Dice, è arrabbiato perché ho fatto questo, ho fatto quello, è successo questo, è successo quello. No, la rabbia nasce da questo... Da quest'idea, che ipnotizza praticamente la persona, che col vecchio partner, diciamo così, facesse sesso stellare, e invece con lui, ma mettendoci tutto l'impegno, tra l'altro, che con lui non ci mette, con lui la vede svogliata. Ecco questo, e questo genera rabbia, genera rancore, soprattutto se la persona si sente inadeguata, e rovina il rapporto. Quindi, se tu sei maschio, occhio alla gelosia retroattiva, se tu sei femmina, margalo a cagare, uno che ha la gelosia retroattiva. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al posto, ma ti ricordo l'appuntamento di, del mio seminario online, che sarà martedì, 31 marzo, dalle 20.30 alle 23, e devi andare sulla sezione, abbonamenti del canale Felicità Benessere, e ti abboni. Poi il video resterà ancora un mese dopo, quindi se per caso quel giorno non puoi partecipare, avrai un mese di tempo per vederlo, e ti ricordo ancora un'altra cosa, che a un certo punto bloccherò gli abbonamenti, per avere un certo numero di persone, non oltre quello, per poter interagire poi bene, quindi vatti a prenotare il tuo posto. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!